Il paziente che si trova ad avere della febbre o comunque una patologia respiratoria, la prima cosa e l'unica cosa che deve fare è quella di contattare il proprio medico di famiglia. Contattarlo per chiarire bene la situazione, parlare con il medico di famiglia è sempre utile perché il medico di famiglia conosce bene il paziente, conosce le sue patologie pregresse, conosce l'ambito familiare, quindi i vari fattori di rischio eccetera. Il medico di famiglia compilerà una sorta di triage, un triage dove porrà alcune domande, se è stato per caso in paesi ad alto rischio, quando è stato, quando è tornato, se ha avuto contatti con pazienti infetti, tutta una serie di quesiti che servono a chiarire la situazione al medico di famiglia. Dopodiché, dopo aver compilato questo questionario che verrà inviato, penso di farlo già oggi, ma comunque al massimo domani mattina a tutti i medici di famiglia come ordine. Per cui una volta fatto questo questionario, compilato questo questionario, il medico potrà o lui stesso contattare il servizio di igiene pubblica, il quale deciderà se fare il tampone o se non fare il tampone. Però il punto di riferimento è sempre quello del medico di famiglia. Se il medico di famiglia ritiene che il paziente sia meglio non spostarlo, allora o può chiamare un'ambulanza del 118 e farlo trasportare in ospedale, oppure recarsi al domicilio. Ma si recerà al domicilio solamente nel momento in cui avrà i dispositivi di protezione individuale, che oggi non ci sono. Salvaguardare gli operatori sanitari è decisamente un fatto molto molto importante, perché salvaguardare gli operatori significa salvaguardare il sistema sanitario nazionale. Il consiglio è non recarsi nello studio medico se non strettamente necessario. Certo, direi che un paziente che ha bisogno di contattare il proprio medico per alcuni controlli, per alcune cose che sono comunque rimandabili, è meglio che le rimandi. Ecco, lei diceva mancano ancora i presidi. Quindi come vi state organizzando come medici di famiglia e come vi state organizzando con l'azienda sanitaria? Dunque, i dispositivi di protezione individuale non sono ancora arrivati. Sono stati, così ci ha riferito l'ASL questa mattina, ci ha riferito che hanno ordinato 120 kit per i 135 medici di famiglia del VCO e hanno ordinato tre kit per ogni postazione di continuità assistenziale. Voi denunciate un po' la mancanza di coinvolgimento in questa situazione? Non siamo stati coinvolti nelle unità di crisi, per cui ci siamo un pochino lamentati. Oggi invece c'è stato questo incontro che bene o male ha portato dei frutti, ci siamo confrontati su alcuni temi e su alcuni punti e direi che da adesso in poi credo che potrà funzionare un buon rapporto.